Filobus, quel ritardatario cronico, promette ma agli appuntamenti con i leccesi non si presenta e anche quando sembra essere arrivato il momento decisivo, invece, da buca all'ultimo minuto. La data fatidica del 27 dicembre annunciata dal sindaco Perrone come quella del via, in realtà, è l'ennesimo slittamento. Partenza è rimandata ancora una volta, dunque, ma sicura l'assessore trasporti Giuseppe Ripa è solo questione di giorni. Incrociando le dita, il Filobus inizierà il suo cammino prima dell'arrivo del 2012, fra il 30 e il 31 dicembre. Noi siamo pronti dal punto di vista proprio tecnico, il Comune di Lecce ha fatto tutto quello che doveva fare. Oggi è mancato perché l'Ustif non è venuto a certificare, a darci l'ultimo certificato. Ci ha detto che questo lo farà entro il 28, 29, 30 al massimo, stiamo qui ad aspettare. D'obbligo i chiarimenti da parte dell'assessore sui motivi dell'ultimo ritardo. Questioni tecniche, o meglio, un contrattempo legato al collaudo finale della Commissione Ustif, che in queste ore avrebbe avuto una mole di lavoro eccessiva al punto da non poter rispettare la scadenza. Spiegazioni che non risparmiano le critiche da parte dell'amministrazione a un'opera che stenta a decollare. Questa è un'ulteriore dimostrazione di come quest'opera sia stata portata avanti da una serie di enti che erano impreparati di fronte alla mole della stessa opera. L'ho detto più volte che non era soltanto responsabilità o inefficienza del Comune, ma erano anche gli enti preposti a dare i vari collaudi, le varie certificazioni al filobus, che erano assolutamente impreparate. Me ne assumo la responsabilità di quello che sto dicendo, ne è prova il fatto che oggi questa inaugurazione del 27 viene a mancare proprio per la mancanza dell'Ustif, la Commissione regionale. Ma, precisa Ripa, niente a che vedere con la bufera giudiziaria che ha travolto pali e fili disseminati per la città. No, nella maniera è persoluta. Sono dovute, come ho detto precedentemente, al fatto che è un'opera complessa. Adesso non resta che fare un nuovo conto alla rovescia per vedere in movimento il tanto criticato filobus che si fa attendere da 4 anni e 6 mesi. La speranza è che l'agonia non si trascini anche nel 2012, costringendoci a parlare ancora di un'opera incompiuta costata ai leccesi 25 milioni di euro. Grazie a tutti.